Grazie, sono Aldo e questo è il mio canale. Oggi, come avrete visto dal titolo, vi mostrerò i miei regali di questo Natale 2017. Se vi va, ditemi anche i vostri miei commenti e mettete un like se questo video vi piacerà. I primi due regali che ho avuto sono stati dei maglioni che ho avuto dai miei genitori. Il primo ce l'ho addosso, vedete? Questo qua è verde, ha questo collo qua. Vedete, secondo me è carinissimo. E ne ho avuto uno uguale, ma di un colore diverso. Sempre dai miei genitori, insomma. I miei genitori mi hanno voluto regalare questi due maglioni, che a me, appena li ho visti in Medellina, mi sono piaciuti tanto, mi li hanno fatti loro come regali. Poi, come secondo regalo da un'altra persona, ovvero da mia zia, ha avuto questo bellissimo appendino di Babbo Natale, con il campanellino, adattissimo per l'albero. E' molto carino, perché comunque sembra realizzato a mano. A meno che non lo sia, questo non lo so. Però secondo me è molto carino. C'è anche il campanellino, sentite? Bellissimo. Come terzo regalo, ho avuto questo appendino altalena di Babbo Natale, da una mia amica, dipinto a mano. E anche questo da prendere all'albero, secondo me anche questo è molto carino. E poi, ho avuto anche, da mio fratello però, questi bellissimi gel. Credo che siano di origine della Gran Bretagna, se è questo brand. E sono unisex, quindi adatti per tutta la famiglia. Li trovo molto carini, anche perché sono alla frutta, e servono sempre per idratare il corpo, che è per lavarci, non so, mano, scopi. Grazie ancora per aver visto questo video, noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao!